Sto mangiando una pizza vicino a casa vostra, faccio. Ora un po' meglio, sto mangiando una pizza vicino a casa vostra, faccio. Qualcuno ha detto, io sei a casa, ma non sei a casa, ah ah ah. Ripeti i messaggi, c'è da Alfa, Charlie Alfa. Ripeti i messaggi, c'è da Alfa, Charlie Alfa. Qualcuno ha detto, io sei a casa, ma non sei a casa, faccio. Visto l'orario, ho preferito tornare a mangiare qualcosa, passo. Visto l'orario, ho preferito tornare a mangiare qualcosa, passo. Ciao, passo. Sono da me, non ho detto, passo. Buonanotte, non mangiare niente, non ho detto, non ho detto, faccio. Ciao, passo, passo. Ricambio effettivamente, c'è da Alfa. Baccio, buonanotte. Cambio effettivamente, Charlie Alfa. Baccio, buonanotte. Sierra Sierra, sento da Sierra Alfa. Mi vedo la tua posizione, vedo la via, cambio. Commestro a Sierra Zulu. Registrato, Sierra Alfa, sono in via con la passante tra una sezione e tua abitazione, passo. Vieni avanti, Sierra Zulu. Registrato, Sierra Alfa, sono in via con la passante tra una sezione e tua abitazione, passo. Vieni avanti, Sierra Zulu. Sì, QSL, nel frattempo ho ricevuto anche io. Ah, ma... Ma allora, sento una prova del lavaggio da casa, oppure di già in zona? Perché, infatti, qua ti sento anche in diretta, cioè senza il ponte radio. Dico, hai già provato anche da casa? Vai per te, Sierra Sierra. Sierra Zulu, no, non ho ancora provato a casa. Mi sono fermato qua e ho fatto una prova, passo. Sì, ragazzi, uno, no, non ho ancora provato a casa. Mi sono fermato qua e ho fatto una prova, passo. Ricevuto. Va benissimo. Allora, ragazzi, io per il momento sono qua. In nascosto, in attesa, compaio eventualmente il R-Like. Nel frattempo sono in cala da diretto, però mi sposto in balcone per fumare una sigaretta. Casomai, fate un fischio, sono sempre in QRX. Ricevuto da Sierra Sierra. Ricevuto da Sierra Sierra. 2SL da Sierra Alpa. Sierra Alpa da Sierra Zulu per un QDC. Alpa da Sierra Zulu. Avanti, Sierra Zulu, Sierra Alpa, ascolto. Vuol dire di solo, fammi sapere se non compaio, appena compaio, Sierra Mike. Vuol dire che sono in balcone e sono lontano dalla custia della radio. Eventualmente, se non compaio nel giro di qualche minuto, se mi giro farò un fischio, uno squillo al telefono, qualcosa per farmi capire che è arrivato anche lui in vuota. Tutto lì. Va bene, Sierra Zulu, Fabiaco, per una pausa sigaretta. Siete vuoto, Sierra Zulu. Sierra Mike, Sierra Alpa, ascolto, non compaio, bambini. Sierra Mike, Sierra Alpa. Sierra Alpa, ascolto, non compaio, Sierra Alpa. Sierra Alpa, ascolto, non compaio, Sierra Alpa. Sierra Alpa, ascolto, non compaio, Sierra Alpa. Sierra Mike, si sta ragionando. Basta. Sera ma che stai attenando, basta Probabilmente anche perchè mi avrebbe sempre dovuto passare da casa di Giorgima per chiamarvi delle cose Comitamente Gigi a Giorgima Comitamente Gigi a Giorgima Comitamente Giorgima Per una regia è adatta Per una regia è adatta Permesso facerlo a Zubo. C'è qualcuno sul porto che arriva malissimo, non riesco a capire chi sia. Comunque un istante preciso di punta, soltanto che sono collegato al server per staccare i segnali orari e le pubblicità così non ci rispondano. Però per farlo devo inviare un attimo il segnale, quindi adesso concludo la comunicazione e darmi un minuto di bianco perché avrò un segnale di testo. Serra, giuro da Serra Serra, dice Vuto, io vedo. Serra, giuro da Serra Serra, dice Vuto, cosa vuoi? www.cappagallo-mennaro.org Prove tecniche di trasmissione e ricezione del Ponte Radio Pappagallo-Mannaro. Pappagallo-Mannaro. Prove tecniche di trasmissione e ricezione del Ponte Radio Pappagallo-Mannaro. in un momento di quando sono staccati. Serra Alfa da Serra 1, che si è nascosto. Serra Alfa. Sì, è alta, si ripeti passaggio. Sono in foto. Sì, è un po' ma... E poi non mi doi paura, Palma, perché la mia ci cerca molto ma molto bassa. Non è molto più importante, non è molto più importante. Ma anche se non è molto più importante, non è molto più importante. Ricevuto, ho capito, confermo che stai al microfono parlando, ma non ho capito il resto. Poi rivela il resto, portata l'azio al carro che vivo. Oltre a essere voci, doccano da Palma, sono io che tengo, sono i voci in pancia. Ricevuto. Va bene, notizie di Sierra Mike, ora è ancora solo due Sierra a Sierra. Il magazine di Sierra Mike, ancora nessuna notizia, è tanto. Va benissimo. Tu nel frattempo adesso la radio sottocarica, è interrore vivo. Il negativo, sto provvedendo all'assistemazione di tutti i settori e l'altro radio non stavo proprio in questo istante per mettere in sottocarica, ma quella per la quale si sto smettendo ancora non è in sottocarica, è tanto. ricevuto. Va bene, bisogna vedere quanto resistono le batterie, perché obiettivamente sono così come me l'ha mandato il tizio, quindi potrebbe morirti in mano come potrebbe durare tutta la serata. Comunque dimmi conto, casomai se intanto c'è l'altra sottocarica, poi in qualsiasi momento fai un cambio. Tra l'altro ci mette così il tribo del tempo a caricare la batteria, ma si può utilizzare la radio anche mentre è collegata alla base di ricarica. Sì, infatti lo dicevo pure a terra a terra nel caso in cui avversamento la radio sottocarica e si potrebbe utilizzare anche mentre la radio era in carica. Comunque sì, nella quale trasmetto, attualmente i segnali delle tacche quando trasmetto si tornano a giù e quando sono in ascolto è completamente piena, cambio. Tanto ti guadagnato, vuol dire che la batteria è comunque sufficientemente carica. Vabbè, io in questo tempo qua sto cercando un paio di cose su internet, ci sentiamo, tanto sono sempre in ascolto comunque. Questa è lei, io adesso vediamo che riesco a mettermi in contatto a telefono con quanto era mai, credo che era vero che non si è fatto e chiudo. Vabbè, io adesso vedo che era voluto a trovare alta, non vi è vero. Sì, avanti. Il personaggio mi sono sentito che non si era mai che lui era ancora a casa di Pierre Golpo che stava scevando per te e uscire le cose con Facebook. Quando arrivavo a casa mi avrebbe fatto migliorare, comunque da casa di Pierre Golpo non riusciva ad agganciare il fonte, cambio. Ricevuto, sì, da casa di Pierre Golpo ce l'ho provato già un paio di volte e mi pare che forse c'era solo da una finestra in un punto preciso tenendo la ventenna ferma e compagnia andante. Va bene, io al frattempo qua sto aggiornando un paio di cose a proposito di nucleare, per ora continuo su Memici, ci sentiamo dopo, eventualmente, per ora, da almeno un'altra orezza, resto in conversione anche via radio. Questa è lei, io sto finendo di sistemare gli ultimi effettori dell'altra radio, aspetta in più notizie di Pierre Mike, dopodiché è attualmente stacco, chido. Pierre Mike, Pierre Mike, Pierre Mike, da Pierre Alpha, cambio. Pierre Mike, da Pierre Alpha, cambio. Pierre Alpha, per ora, mi sono sentito telefonicamente con Pierre Mike, abbiamo fatto ulteriori prove anche a più fuori dal fondo, su canali TML, che non riesce ad agganciare niente completamente. Pierre Mike, da Pierre Mike, da Pierre Alpha, cambio. Comunque, ci sarà modo di sperimentare, ci sarà modo di vero l'orario e compagnia briscola. Guardate, tra l'altro, allora, io visto che l'orario è quello che è, che domani mattina alla sveglia mi tuona alle 5, io direi che per il momento concludo, faccio QRT e tra poco mi uo' curco. Vai avanti per te, ecco, e finalizziamo come si suol dire. Sì, io pure, ero un attimo andato su Facebook per controllare la posta, mi ha contattato Mike Romeo, dicendo che ci dicevo, compagniamo questa gara, e magari tra 20 minuti si chiamava un volontario di nuova Europa di per andare da via del settore 12 e prendere delle coperte. Aspetta, va, ti faccio un abbastro un attimo. Sierro a alto che sierro a giro. Sierro a giro. Sierro a giro a giro. Oh, provo a farlo a giro su Facebook, ho provato a fargli uno scritto, ma il telefono è non staccato, quindi non so, ma per mandare il messaggio c'era da fare questa operazione, forse questa sera, adesso, domani, non si sa quando. Mi ha semplicemente scritto che tra lì c'è tra 20 minuti, aspettando le chiamate di questo volutario di nuova Europa, gli avrei fatto compagnia per andargli ad aprire il canzerno, il dottesimo settore, quanto avrò a giro presto e dopo metto, solo questo. Cambio. Da tra circa 20 minuti, alle 11 e mezza, insomma, in carro d'arrivo. Mi sta suonando il telefono. Sierro a giro. Ok, mi sono sentito con Mike Romero, ci siamo chiariti, ha detto quella situazione, ha detto, sto aspettando la telefonata, ora eventualmente vi sto accompagnando pure io, quindi fra, non so, sto aspettando che mi ritelefoni per sapere se c'è da andare o meno, tutto lì. Questo è il telefono, io ho detto a Mike Romero, che non gli avrei potuto fare compagnia, perché domani ho messo le lezioni di filosofia e ancora sono nel bel mezzo dell'istudio. Cambio. Chiudo. Va bene, e allora poi casomai ci aggiorniamo, ci sentiamo, facciamo qualcosa. Va bene, per il momento io mi ricambio e per il momento chiudo comunicazione, dai. Poi eventualmente ci si aggiornano, eventualmente, se c'è bisogno di qualcosa, riaccendo la radio dopo. Va bene, ci sentiamo alla prossima, buona continuazione. Questa è la parte mia, è uno, scusami, che mi chiamava che voleva dire a fronte di un'istudio per segno della radio, faccio. Grazie.